Mi metto di qua Catturiamo il giochino Ragazzi avete visto la mia storia oggi? Dei vari tagli a erba che ho visto Visto che il gioco vi è piaciuto così tanto ieri Non potevo Non può stare Stando all'ombra poi solo i piedi al sole Perché il resto del corpo me lo sono bruciato l'altro giorno Ma camminando dove? E' quello del chirurgo? Questo è un altro Questo è dobbiamo cucinare con una mano sola Spendiamo un attimo la musica Vediamo se c'è la musica dal gioco Create game Qualcuno di voi ha il gioco? Domanda Se no facciamo una open lobby Facciamo una lobby aperta Che se dovesse qualcuno scaricarlo Non solo voi ma qualcuno forse che ha il gioco Può entrare Open Sono io questa? Ah Play and objective and earn coins Seleziona la mappa Ma questo gioco è che quando clicchi praticamente Non ti dà nessun feedback sonoro Benny's Burger Bar Henry's Hot Dogs Peter's Pizzeria Pizzeria? Pizzaria! Mamma mia! Benny's Burger Bar Ok iniziamo Non c'è nessun audio Non si sente niente Oh Cazzo devo servire 11 customers 11 clienti Ok il bar al momento è in vuoto Sta arrivando qualcuno? Ma la mia mano sembra una Non lo so una spatola tipo Gigantesca di legno Posso prenderli a schiaffi? Salve clienti! Avete fame? Cosa vuoi mangiare? Vuoi mangiare un hamburger? Tu un cheeseburger Tu un cheeseburger Oh posso lanciare i cosi Oh cazzo però è caduto Guarda ma non si sente niente del gioco Aspetta Settings Il volume sta a 100 Sembra che ho messo e non ci fosse proprio Amici vi ho portato dei fiori Così potete mangiare questi Mentre aspettate ok? Per te fiori Mangia! Hai fame? Volevi mica un hamburger? Vabbè mentre aspetti Tieni Mangia Vabbè le lascio qua Se ti viene fame Puoi mangiare ok? Ma che bellino cicino Questo cliente Ma che carino Ma di chi è? Questo nasino Sì è tuo Questo nasino Ok andiamo Ma c'è una rana qui Ma questo è palesemente nuova Che ci perseguita Questo è nuova Cosa abbiamo qua dentro? La carne? Ah interessante Ok come si fanno i panini? Hamburger Cheeseburger Oh cazzo ma costa il tempo? Oh mio dio È il mio primo giorno qui Non so come si cucina Ok facciamo finta che Io me lo posso immaginare Ovviamente me lo immagino E credo che per fare un hamburger Abbiamo bisogno di Di cosa abbiamo bisogno? Cosa c'è qua dentro? Ma che sono le trappole per i topi? Possiamo usarla su qualche cliente? Sul naso bislungo di questo cliente qua? Ti ho portato un regalo? No Come si attivano? Non lo so Lasciamo quella per lui Ok allora ragazzi Tiragli uno schiafo Vedi che mangia Allora prendiamo Qui dovrebbero cucinarsi Dovrebbe cucinarsi la carne Ok proviamo Perfetto Penso che mi serve questo Dove sono i piatti in questo posto? Oh cazzo è caduto Ok Questo appoggiamolo qua Il pane devo cucinarlo raga? Devo scaldarlo forse qui dentro? Oddio è scomodissimo Chiudi Metti qua dentro? Oh Ma che cosa? Ma cosa serve questo? Metti qua dentro Perfetto Cucci No si è bruciato No prendi Non lo vuole prendere Ok preso Vabbè Quanta gente è arrivata Nessun pro Ah ok Dobbiamo Ma cos'è? Sta andando a fuoco tutto il locale Fa niente Tutto a posto ragazzi Cuciniamo un'altra volta Questa si sta Porca troia Sta bruciando tutto Ah È il mio primo giorno qui ragazzi Pronto Ok Cuciniamo altri Oddio è caduto Facciamone Merda Vabbè per te non succede niente No E vale la regola dei tre secondi No Ok Pane Fatto Come lo ficco dentro Vabbè li metto Li metto Questo qua Metti sul piatto Ok Mettiamo il pane Questo si è cucinato Questo anche Un topo Ah What Cosa ci fanno i topi Qui dentro Posso cucinare il topo Ah 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 Voi non potete immaginare Cosa vi farò da mangiare Stasera Raga come metto Ah forse devo tagliare il pane Cosa Oh cazzo Il topo a fuoco Non è a posto Che schifo Aspetta Lo mettevo nel piatto Di quello lì Che mi sta antipatico Non si raccoglie il piatto Ragazzi Quanta gente No basta Basta gente Basta gente Non reggo No Fa niente Non succede niente Non riesco a reggere Questa pressione Andate via Stupidi clienti Non vi vuole nessuno Via Ok finito Comunque Che devo fare? Ho visto che l'ha scaricato Wolf Che devo fare? Vediamo Wolf ce l'ha Ok Invito Inviato Nell'ambito Della ristorazione Faccio cagare Cavallo Il mio primo giorno Arrivano 150 clienti Non ho capito Eh voodoo Per anno Siamo amici Su steam Mi dovresti inviare Prima la richiesta Questo è Wolf Guarda con gli occhiali Ma come faccio A modificarmi io? Perché lui ha gli occhiali Io no? Sì certo Invia la richiesta Perché ha dato L'abbonamento A una persona random Che vuol dire? Vuoto dal gioco Da 1 a 10 Per ora direi Divertente Quindi direi Un bel 7 Ma forse Una burger Stai in mezzo A due panini Il problema È che non sapevo Come fare A tagliarlo In due Quando hai fatto? Dimmi pure Se mi hai inviato La richiesta Vediamo A me non è arrivata Nessuna notifica Però vediamo Nuove richieste D'amicizia Aspettiamo Se no Voodoo Quanto ci metti? Che se no faccio partire questo Voglio anche io gli occhiali Zan 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 Normale Free play cook off Partiamo Ok Partiamo con Questo Henry's hot dogs Andiamo a preparare Gli hot dogs Ragazzi Con wolf Siamo in due Hai regali Da aprire? Aspetta Allora fammi controllare Un attimo Davvero Steph? Ma che mai strano Ah Ma guarda Posso modificarmi Il personaggio Ok Dunque Ma non ho niente Oh Wow Che carino Sicuramente Con questo cappello Da broccolo gigante Riuscirò a cucinare meglio Sicuramente Ragazzi Sarò Vabbè Facciamo così Classico Mi è arrivata una richiesta Da Eeeh Chi si chiama Daniele? Il decespugliatore L'hai preso? No alla fine Suoro sei tu? Ok Sai il gioco Te l'accetto Ma chi è? Ma chi è? Non spammare Maledetto Non l'accetto allora Non so chi sia Vabbè Raga Mi dite il vostro nome In chat al massimo Eeeh Devo rifare la lobby Ok Invitiamo wolf Selezioniamo la mappa Andiamo a fare gli hot dog Ah il caffè Ancora il caffè qua Pam 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 Mettiamo un po' di musica Mentre aspettiamo Se inviate le richieste Mi dovete dire anche Come vi chiamate Così Visto che ho un botto di gente Almeno so chi siete Ok In teoria ho accettato Te l'ho inviato adesso Vediamo Però non vedo Lost Lost Vabbè Intanto faccio questa Ok Ok Faccio partire questa Intanto Va bene Ready Andiamo a fare Andiamo a preparare gli hot dog Ragazzi Bocca al lupo Dobbiamo Servire dieci Clienti Ciao wolf Stringimi la mano Vieni In bocca al lupo Andrà bene Batti cinque Ce la possiamo fare Ok Cosa posso uccidere Qualcuno con questo coltello Vado ad accogliere i clienti Salve clienti Ordinate adesso il cibo Se no vi ammazzo Giuro Vi taglio la testa Vi taglio tutto Vi stagliuzzo E poi preparo i panini con voi Hanno già ordinato Questo vuole una salsiccia Posso tagliare la tua se vuoi È belloccio È belloccio Ok Forse è meglio se torno A cucinare Che dite Cos'è questo Ah dice come si fa La salsiccia si fa Salsiccia cucinata Facile Ma è caduta wolf Mamma mia È caduta Ok mettiamoci il piatto qua Bisogna cucinare Forse devi metterla qui Esatto Perfetto Sta cucinando Plain hot dog Vogliono anche un plain hot dog Salsiccia Serve un'altra salsiccia Serve anche il pane Mi scusi signor wolf Può spostarsi Grazie Il pane bisogna tagliarlo Ok C'è un po' di difficoltà Con questo salsiccio Aspetta Preparo un hot dog anche E questo lo mettiamo Ok Sta arrivando la salsiccia Per te Buon appetito Minch Che schifo Ma cosa hai fatto sul piatto C'hai vomitato Eww Cazzo Ha fatto il volo Ok Bisogna Bisogna tagliare Ok ce l'hai fatta Perfetto Come lo ficco dentro Serve un piatto wolf Vabbè Li mettiamo in parte Siamo Siamo per arrivare Non preoccupatevi Oh Ha preso il volo Ha preso il volo La salsiccia Vabbè Nessuno saprà mai Che è caduta ragazzi Cioè Vabbè Devo poggiarla qua sopra Oh Sta arrivando anche il suo dog Signore Prego Mangi E' felice Se ne vado adesso Può andare a fanculo Via Uuu I topi I topi Via I topi Via clienti Sono scappati ragazzi Ok Allora Cosa vogliono questi Una salsiccia E servono Due Serve un hot dog Ok Salsiccia C'è Oh cazzo Salsiccia Mangia Oh cazzo Scusami C'è la tua testa In mezzo alle palle Non ho capito C'è veramente Oh cazzo I topi di merda Ma che Le voglio infilzare Aspetta Abbiamo perso Ci hanno rubato qualcosa I topi Senti Nel frattempo Vuoi mangiare un po' di Senape Ok Aspetta Bisogna Cercare Bisogna Cazzo ma qui E' un casino Bisogna La salsa La salsa Salsiccia E' stata rubata Bisogna Cucinare Quella Io nel frattempo Cercherò di ammazzare I topi Ok Scappate Figli di Scapp Hanno paura Di me No Non tantissimo Ok Ho fatto volare Mi servono i due piatti Mi serve un piatto qui Ok No Non andare Che tu sia maledetto Veramente Ti maledico Morirai tra dieci anni Oddio Cos'è successo La sua mano Ok Salve Benvenuti In questo stupido Posto Meraviglioso Salsiccia Serve una salsiccia Tieni La salsiccia Bro Tieni Te la passo con la mano È cruda Vuoi la boicotta Ok La dobbiamo cucinare Questa Cucinare No Non vuole cucinarsi Non cadere C'è capito Ha la vita propria Questa Ok Bisogna lavare i piatti Come si lavano i piatti Possiamo usare i piatti sporchi Che dici Vanno bene uguale Appoggiamo qua Dai Panino E la salsiccia Ok In arrivo Uno dog qui Prego signore Buon appetito È un po' sporco il piatto Fa niente Dai Stiamo risparmiando Non vogliamo sprecare l'acqua Capito La salsiccia è cotta Per lui C'è un piatto che ha preso il volo Letteralmente Buon appetito Mi fa piacere che ti sia piaciuto Ok Cosa volete voi bastardi Salsiccia E un altro dog Oh cazzo Abbiamo finito le salsicce adesso Ok Nessun problema Le salsicce sono finite Ma non è effettivamente un problema Perché le possiamo Ce le possiamo procurare Salve Benvenuti E ci servono le salsicce Quindi mi sa che è arrivato il momento di fare ZAC Ai clienti ZAC 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 Aspetta Dobbiamo mettere delle trappole Perché qua Non va bene Cioè Trappi topi Ci stanno rubando il cibo Sti bastardi Ok E mettiamo uno Anche Davanti all'ingresso Tipo Bene Ma Non c'è un frigo Tipo fuori Non lo so L'acqua Ok a posto Non è che c'è qualcosa Qui dentro Ci servono le salsicce Si sbrighi Si Mi ha infestito Ma che cazzo fai Cibo Fattene Fanculo anche tu Aspetta Dobbiamo mettere tutto qua dentro Come si mettono nel frigo Devo mettere uno alla volta Tu stai scherzando vero No Le teniamo qua così Le cuciniamo Cuciniamo un botto di salsicce Topi di merda Cucino anche te adesso Bastardo Ecco Salsiccia con i topi Ottimo Proprio quello che ci voleva Questa è pronta Sono andati via quei clienti Cosa vogliono Ok To Mangia Mangia Ma è cruda Ma questa è cruda Ma mi stai Cosa Ma stai lanciando i topi Ma stai lanciando i topi Ma vuoi qua Non riesco a raccoglierlo Ma è volata via la salsiccia Ma cosa ha fatto To Tieni Non fare Dai Però Mangia Che viziato Ma è cruda È cruda questa salsiccia Solo quattro clienti Serviti Incredibile Ok Vediamo se Chi si vuole aggiungere Può ordinare dal pc comunque Che vuol dire? Come non puoi chiedere l'amicizia Che vuol dire? No Dovete essere i miei amici Per entrare Sì Cioè In realtà Non lo so Ok Strecato Ti invito a te Ti invito a te So Gioco è gratis Sì Aspettate un attimo È sparito Devo rifare la lobby Forse se fate Find game No Non è vero Create game Lobby Aperta Start Come ti chiami Voodoo? Mi serve a sapere i vostri nomi Ma io non vedo gli altri qua dentro Forse devo riavviare il gioco Perché è la lista amici Non so se ho accettato le persone Non capisco Forse non vi ho accettati Ah Voodoo lo vedo Ah certo Non vi ho accettati Perché c'è scritto C'è da confermare anche Ok Non l'avevo visto Selezione Poi confermo Ok Adesso ci siamo Rifaccio la lobby Non vedevo Scusate Sono ciecata Ah ecco Adesso vi vedo tutti Allora Wolf C'è Daniele Lost Player E Voodoo Non lo vedo Ho accettato anche Voodoo Anche Vadario c'è Che ve lo accetto La richiesta Aspettate Vadario Conferma C'è anche Spano Lo accetto Ci sono un po' di persone Poi non so se Chi altro dovrà accettare Allora vediamo Voodoo c'è Gli altri Vi è arrivata la richiesta Raga Per inviarti L'amicizia Devo mettere Su Steam 5 euro Ma che cosa Strana Sì sì Ho visto che ti sei unito Manca Wolf La rinvio E E Te Una quarta Persona Che dovrebbe essere O Daniele O Lost Player Non so chi Di voi c'è Vabbè Invitiamo 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 Daniele Intanto Vediamo se accetta È per i nuovi account Ok Ah si è unito Perfetto Mettete pronto Selezioniamo la mappa Possiamo fare La pizzeria Ragazzi Peter's Pizzeria No Non me la fa mettere Ah Non è ancora uscita Ci sono solo due mappe Per ora Ok Facciamo il Burger Bar Perché siamo in quattro Vediamo come ce la caviamo Ma siamo tutti uguali Dobbiamo servire Tredici clienti In bocca al lupo Ciao amici Benvenuti E Accogliete bene i clienti Mi raccomando Qua c'è un libro Che dice Cosa bisogna fare Mamma mia Per preparare Sti panini Ci si mette un po' Eh Allora Io mi metto a cuocere La carne Dai Cucino questo io Cuciniamo un po' Bisogna Bisogna preparare Un po' di roba Vediamo come ce la caviamo Ok Questo è pronto Questo è pronto Oh cazzo È caduto Ci sono già i topi I topi Anche questo è pronto Metti qua Perfetto Ma chi ha messo quello lì Crudo Perfetto Guarda qui La squadra La squadra intera Ma i topi rubano solo se cade qualcosa a terra Mi sa Oddio Avete già messo Ok Qui c'è un formaggio a terra Questo è qua Prendiamo questo A posto Ho finito di cucinare Tutti gli hamburger Adesso cucino la pancetta Perfetto Non si deve bruciare Cazzo Questo è caduto Questo è qua Questo è qua Questo è qui Perfetto Cosa brucia Che sta bruciando Cosa vi serve Cosa serve Serve Un bacon cheeseburger Come si fa Deve essere cucinato il pane Chi sta cucinando il pane Questo pane è cucinato Non so se è cucinato Sai È cucinato Ok Aspetta Aspetta Lo devo tagliare Ok È tagliato Perfetto Oh mio dio Che casino Allora Qui Dove è l'altro pezzo È volato via Questo qua Merde Mi scusi Sto arrivando Questo Poi Cos'è Questo anche Quanta gente Ok Ah no Serviva un altro Serviva Un bacon cheeseburger Bacon cheeseburger Due di bacon Anche il formaggio Due di bacon Due di bacon Due di bacon Bacon Cosa è successo Due di bacon Il formaggio qua A posto Questo piatto è pronto Pronto Servire Bacon cheeseburger Al quale cliente Non lo so Non mi interessa Bacon cheeseburger Un altro Oh mannaggia Ah questo è il pane Cucinato Ah ho capito Ok Bacon cheeseburger Cos'è successo Bacon cheeseburger Ok raga È caduto un pezzo di carne Ok raccolto Nessun problema Serve il formaggio Formaggio c'è Serve La pancetta Cos'altro Questo è pronto Bacon cheeseburger C'è Sì Cucinato Questo è pronto Oh Cosa hai fatto Fabio Grazie mille per l'abbonamento Ben Ben tornato È successo Un casino È volato tutto Il panino Giù Il topo Bastardo Ti cucino Ok 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 Questo dobbiamo raccogliere Questo qua Questo qua Ok Due di formaggio Forse un po' troppo Oh cazzo Oddio Oh cazzo Wolf Devi andare piano Eh Se no vola giù tutto Guarda questo Con il pezzo di pane Ok Cos'altro serve Abbiamo fatto almeno un ordine Un cheeseburger Raga Come si fa un cheeseburger Burger Formaggio Carne E pane E pane Ok Diciamo che è un po' un casino Impossibile Ok taglio un po' di formaggio ragazzi Ma che sta facendo sto casino Ma questo pane è da cucinare Ok Che cos'è sto Tin 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 Questi pezzi di pane Sono pronti Cosa sta scoppiando Non abbiamo servito Nemmeno Un Cliente Ok ragazzi Eh Un secondo Purtroppo Possiamo fare La stessa mappa Di nuovo O In due si fa questo Quello degli hot dog Voto al servizio 4 È andata male È andata molto male I piatti sono buggati Sì Abbastanza Eh vabbè raga Direi che Basta Grazie di aver giocato con me Che si è giunto All'ultima partita Ma è un po' Come dire È un po' Too much C'era un panino Glicciato È tutto rotto Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Che dite Ci abbiamo provato Vediamo se c'è qualcos'altro Che possiamo fare Magari insieme Che c'è qualcosa Su Steam gratis Che possiamo fare Al momento C'è un topo immortale È stato divertente provarlo Ma basta Cioè non è che lo giochi di più Che può essere Che ci sono Grazie a tutti.